La mia cazzo e signori, benvenuti a tutti, Andrea di Frey, in Portogallo, con me la bella Susanna Melo. Ciao Susanna, sono molto felice di essere qui con te, che è il vostro messaggio per tutti i tuoi fan, per tutti i tuoi amici? Ciao, sono Susanna Melo e un beicino per tutti i miei seguitori, adoro voi! Susanna, posso dire un'ecco? Oh mio Dio, fantastico! Susanna, ho un piccolo presento per te Grazie! Potete aprirelo? Susanna Melo, da Portugale Fantastico! Grazie Susanna, fantastico! Fantastico! Grazie, grazie! Obrigado, obrigado! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.